Leonardo Silva Revisore Salve, all'improvviso, come entrare così ed avere tante persone davanti, la bellezza all'improvviso. Io partirei subito con un'opera d'arte. Quest'opera d'arte ha autore sconosciuto e ha titoli in diversi modi, si può chiamare in diverse lingue. Si può chiamare Lampo, si può chiamare Saetta, si può chiamare Fulmine. Autore sconosciuto perché attualmente noi lo possiamo anche dare alla natura come paternità dell'opera. Però c'è anche altri che se la contendono la paternità dell'opera di questo tipo, la vogliono trascinare verso altri credi ed è giusto che sia così perché è la libertà di credo e di espressione. Talmente potente fin dall'inizio questo segnale nel cielo che in realtà era praticamente impossibile resistere. Più che altro perché non solo aveva questa immagine meravigliosa da sempre, dagli albori, ma soprattutto perché era molto molto pericoloso. Stiamo parlando di 200.000 volt di energia che possono arrivare sulla terra, che si scaricano dal cielo, quindi da un punto più alto a noi, quindi veniamo noi magari dominati da questo fenomeno e lo subiamo. Nel momento in cui lo subiamo non penso che si possa resistere a questa potenza, quindi in realtà noi abbiamo anche la paura di qualcosa che ha una forza incredibile. Quando si ha paura di qualcosa probabilmente si mitizza, evidentemente si mitizza, a questo fenomeno nessuno potrebbe resistere, animali, piante, uomini e quindi diventa un dio. Quando qualcosa di questo tipo diventa un dio ci sono elementi creativi di solito che cercano anche di far diventare questo dio controllabile o comunque di dargli una valenza ogni volta contemporanea o di dargli una metafora utilizzabile. E quindi per questo diventa il colpo di fulmine, il colpo di fulmine che è una delle fasi essenziali della creazione, un momento in cui ti arriva qualcosa dall'esterno che tu non hai nessun modo di controllare e al quale non sei assolutamente preparato. Una maleducazione dell'idea che arriva in un momento che tu sia fragile, che tu sia depresso, che tu sia superattivo, che tu sia felice e arriva questo colpo di fulmine. Il colpo di fulmine a un certo punto, proprio perché diventa una bellissima espressione per parlare di amore, per parlare di bellezza, per parlare di qualcosa che entra nella nostra percezione, diventa anche una maniera, uno studio, diventa una scienza per riuscire ad accaparrarsi l'attenzione, riuscire ad arrivare alle menti delle persone. E così che allora si dice, vabbè, creiamo il colpo di fulmine in laboratorio, no? Non parlo di Tesla, parlo di un colpo di fulmine molto più metaforico. E quindi inizia tutta una preparazione che ha fatto nascere in realtà quelle che sono a volte le cose più belle all'interno delle opere d'arte. E questo in tutte le forme d'arte. Io non parlo in realtà della creatività applicata della pubblicità, dove il colpo di fulmine deve durare 30 secondi, perché voi avete 30 secondi per vederla. Deve essere veloce perché guardando un manifesto dovete essere veloci. Io parlo del colpo di fulmine nell'arte pura, quella che si definisce così. Nella musica sono il famoso attacco, no? La intro di una canzone. Immagino che anche voi abbiate comprato l'album del vostro artista preferito, poi avete ascoltato quest'album e c'è questo maledetto pezzo di 15 secondi, che si chiama intro, che uno ascolta e dice «Madonna, fatene un pezzo da 5 minuti, non lasciatelo di 15 secondi». Quello è il colpo di fulmine che si crea in modo da generare poi tutto il resto. Inutile dire che nel cinema la stessa cosa. I primi, alcuni lo fanno diventare molto lungo, come i primi 20 minuti di Salvate il soldato Ryan, come altri accadimenti nei libri, l'Incipit, è tutto dedicato molto spesso a catturare l'attenzione nel primo momento. Il colpo di fulmine quindi diventa una scienza, ma rimane una cosa che comunque in natura, che sia idea o che sia fenomeno naturale, è incontrollabile, è maleducatissimo. Quando è idea, colpo di fulmine vi ecoglie anche quando siete nei posti più intimi. e ci sono degli accadimenti in realtà che possono anche generare un colpo di fulmine, che possono generare un cambiamento. Io sono qui per raccontarvi il mio accadimento, come l'accadimento potrebbe appartenere a qualsiasi altra persona. Pensiamo, per esempio, io l'altro giorno ascoltavo un discorso, stavo per dire speech, di Vittorio Storaro, mitologico cinematografo, anche qui stavo per dire cinematographer, che ha fatto la storia del cinema, direttore della fotografia, che raccontava che in una passeggiata con sua moglie, fidanzatino a Roma, entra in San Luigi dei Francesi, vicino Piazza Namona, una chiesa bellissima ma nascosta, e guarda e si trova davanti al quadro dove viene raffigurata l'investitura di San Matteo, la chiamata di San Matteo da parte di Gesù Cristo. E questo quadro del Caravaggio, che probabilmente è un nome che voi conoscete, Michelangelo Mirisi da Caravaggio, in quel momento cambia la storia dell'arte. C'è un'immagine classica, una composizione classica, che viene totalmente rotta da un fascio di luce nella parte superiore del quadro. Io non ve l'ho portata, perché essendo un artista, se porto Caravaggio io sparisco. E quindi immaginatela, c'è questo fascio di luce pazzesco, e Storaro lì davanti diventa direttore della fotografia. Storaro lì copia Caravaggio inventando la luce che ricopre Marlon Brando nel monologo finale di Apocalypse Now, una cosa proprio dell'ultimo minuto. Questa cosa è il colpo di fulmine concentrato in un momento, concentrato in un'opera d'arte. E a me è capitata una cosa simile. In realtà io ero disegnatore da tanti anni, lavoravo in pubblicità, era un momento strano della mia vita. vivevo in una casa molto piccola e ci ero entrato per motivi sentimentali di rottura. Allora entro in questa casa, mi sento che dovevo fare qualcosa, era il 2006, e decido che dovevo smettere di disegnare, non smetterò mai, ma comunque dovevo iniziare qualcosa altro, e passare a qualcosa diciamo più nobile per tecnica, per affinità anche con artisti molto più elevati, e decido di dipingere. di iniziare a dipingere, esco, pomeriggio, martedì, vado, compro tutto, torno a casa, spacchetto, colori, tele, e non ci sono i pennelli. Ora, in quel momento, se tu vai a comprare gli ingredienti per una torta, torni a casa e non ce lo zucchero, rischi di impazzire, perché devi cambiare totalmente la tua visione. Ora, questo mi poneva davanti a una grande scelta. aspettare il giorno dopo, o far sì che questa cosa diventasse il mio colpo di fulmine. Non potevo farlo sì, ma volevo che la cosa comunque non mi fermasse. Vi faccio vedere una cosa che vi spiega da lì in poi cos'è successo. Grazie. 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 La cosa bellissima che è successa in quel momento è che, faccio un'altra metafora, io forse ragiono in questo modo, e era come se, mancando il sostegno del pennello che aveva tenuto in piedi, aveva tenuto agganciato all'arte generazioni di artisti, in realtà, come se avessero tolto un oggetto sotto di me, una piccola sedia, io fosse rimasto sospeso. C'è due modi di rimanere sospeso. O sei stato impiccato oppure stai volando. E io ho iniziato a volare sulle mani. È diventato un accadimento che ha fatto sì che io capissi lentamente, ma nello stesso momento immediatamente, che le cose arrivano per un certo motivo e che ogni volta devono essere prese con estrema naturalezza, ma anche seguite. Allora, cosa succede? Inizio a dipingere con le dita e inizio a studiare il corpo come espressione, perché dico, se mi hanno tolto uno strumento, oggi che gli strumenti ce li aggiungono sempre di più o nello stesso strumento ci aggiungono dei microstrumenti, eccetera, eccetera, in quel momento io mi sono sentito invece togliere qualsiasi appoggio tecnologico, qualsiasi tool a me per essere libero. Allora ho studiato il corpo, le reazioni del corpo, il fatto che è diretto il rapporto fra quello che sentiamo e quello che tocchiamo, quello che ci tocca. Vi faccio vedere alcune cose. Io, per esempio, ho studiato molto, pensando al corpo, quella che è la gestualità che fa parte di noi italiani, la nostra bellezza anche all'estero, il fatto che noi siamo quelli che vengono indicati come persone giocolieri nell'aria con le nostre mani, e perché probabilmente siamo da sempre un popolo di mercanti e quindi ogni volta che dovevamo anche dire a uno straniero che cosa volevamo, cosa non volevamo, quanto ne volevamo di qualcosa, utilizzavamo vai, vieni, dammene due, no, non fare così e queste cose, eccetera, eccetera. Allora questo modo meraviglioso mi ha fatto scoprire un giorno che c'era una contraddizione in un segno molto particolare delle mani e ho dipinto questo quadro. Questo quadro si chiama Peace and War, Pace e Guerra, perdono ma i titoli derivano in questo caso da una mostra a San Francisco, dove io immagino che il segno di Winston Churchill, quello che lui ha portato alla notorietà della pace, basta girarlo per avere, io in questo momento vi sto mandando a quel paese in maniera anglosassone, sta prendendo molto piede questa cosa, questo segno, era prima solo inglese, adesso sta diventando un segno comune, nello stesso uomo, perché l'uomo concentra all'interno di sé la capacità di decidere da che parte stare e nello stesso momento la semplicità di questo gesto magari ci racconta che basta poco, forse davvero il dialogo per riuscire a cambiare certe cose. nello stesso momento ci dà anche la fragilità di quello che è il gesto. Tutto relazionato al fisico, perché quello che mi era accaduto come accadimento momentaneo, come colpo di fulmine, era accaduto al mio fisico. In questo caso, per esempio, ho voluto parlare dell'ideale, del fatto che di solito noi siamo portati a spingere un ideale, a portare una bandiera per diverse motivazioni, sono religiose, sono politiche, sono personali, sono, come si dice, commerciali, ma nello stesso momento non dovremmo dimenticare, o almeno questo è il suggerimento, che dietro qualsiasi battaglia, qualsiasi modo, qualsiasi idea che noi portiamo avanti, c'è una cosa fondamentale, l'uomo, quello che ha, l'uomo di qualsiasi età, è per questo che io uso, tra l'altro, la stessa figura, per non darvi troppi soggetti, troppi protagonisti, è un simbolo, è la stessa figura che ogni volta troviamo muovendola in maniera differente. In questo caso, se combatti per qualsiasi cosa, anche dietro un logo, c'è l'uomo, c'è l'uomo che lavora, c'è l'uomo che, alla fine, avrà il risultato di questa tua cosa, e quello stesso uomo sei tu, quindi si chiude quasi in un cerchio. Ultima, e la sostanza delle idee. Secondo me questo, a questo io l'ho portato perché, in realtà, è un po' la traduzione di quello che è successo a me. Quindi, la nuvola, io, lavorando in pubblicità, magari a volte ho odiato le icone, però in questo caso la nuvola, le dico in inglese, permesso, il balloon, è una cosa che di solito contiene i pensieri, no? Le idee, cioè nel cartone animato, ping, ok, la lampadina è all'interno di un balloon, ma in ogni caso il balloon. Questa cosa è diventata fisica, è diventata pesante, perché non è detto che avere un'idea sia positivo. la responsabilità di usare quell'idea, di saperla gestire quell'idea, quello può farla diventare positiva. Ci sono tante idee che ci prendono per i fondelli, altre tante idee che passano e noi non le vediamo. In questo caso, io mi sono sentito di comunicare che per sostenere un'idea ci vuole una forza non solo fisica, ma un'intensità energetica e intellettuale. e io spero che anche a voi arrivi un'idea del genere, che la sappiate sostenere, che sappiate farla diventare la vostra bellezza. Grazie. Grazie. Grazie.